allora buongiorno oggi è 16 luglio e faremo un'insalata di riso allora abbiamo messo prima di mettere il riso nell'acqua con un po di sale abbiamo messo i piselli li abbiamo fatto cucinare per 5 minuti poi li abbiamo tolti e abbiamo messo il riso che abbiamo preparato qui ci sono i piselli metteremo un po di prosciutto poi metteremo un po di olive ecco questa è la nostra insalata di riso aggiungiamo anche una bustina di zafferano per dare un po di colore aggiungiamo anche un peperone rosso crudo tagliato a pezzettine ed ecco la nostra insalata di riso terminata